Un'attività molto carina che ho trovato anche nelle mie esperienze molto interessante è quella di creare delle semplici piccole card che riportino dei personaggi o delle figure che abbiano un nesso col tema affrontato dall'Assemblea. Ad esempio se si parla di cambiamento climatico si può scegliere una cimiliera, un'auto piuttosto che un albero, un cielo stellato e chiedere ai partecipanti di scegliere la card e nel presentarsi, nel dire il proprio nome e cognome dire anche il perché hanno scelto questa immagine.